Siamo notati Gesù e Maria. Cari amici, sta per partire questo video di questo ciclo di chiesi, vi invito a iscrivervi al canale, se non l'avete ancora fatto, spuntare la campanella per le notifiche e al termine del video, se il video vi piace, di mettere un bel like e una condivisione con qualcuno per diffonderlo, se lo reputate opportuno per il bene di altri anime. Buona visione a tutti. Carissimi amici, laudentur, Iesus et Maria, do il benvenuto o il bentornato a chi sta seguendo questo ciclo di catechesi, il mistero di Giuda, come sappiamo è tutto tratto dagli scritti di Maria Valtorta, siamo giunti al ventesimo episodio, ventesima puntata e siamo ancora ai primissimi passi, tenete presente che sul testo siamo a pagina 114, vorrei far vedere il testo perché magari ne parliamo su 700 e rotti, 710 mi sembra, 11, comunque siamo più o meno a un settimo del lavoro, quindi vuol dire che 2 per 7 fa 14, dobbiamo aspettarsi 140 puntate di questo ciclo di catechesi, andiamo avanti così in media. Comunque il testo è questo, come meno male che la telecamera frontale del pc non dà l'effetto specchio, quindi buono a sapersi così le prossime presentazioni anche di video le registro da qui, così non si vedano al contrario perché la fotocamera dell'iPhone dà l'effetto specchio. Questo è il mistero di Giuda, un testo veramente bello curato dal centro editoriale Valtortiano che ho avuto questa idea geniale di raccogliere, questo muore enorme degli iscritti di questa grandissima donna per quanto mi riguarda, raccogliendo degli argomenti tematici, credo che abbia fatto qualcosa anche su San Giuseppe, sicuramente l'altro ciclo di catechesi che è quasi finito, potremmo anche finire il giovedì prossimo, con il suo Maria di Magdala è rimasto l'ultimo episodio del suo trapasso, quindi non so se riusciremo a farlo in una o due volte, ma è finita l'avventura con Maria di Magdala, però ce ne saranno molte altre. Stanno curando rotterante queste cose e peraltro io vorrei anche quasi quasi prendere una cosa, dato che ci stiamo, vediamo se vi trovo, è molto molto bello, però vi dico, sono da leggere per chi non conosce bene Maria Valtorta, perdonatemi se faccio questo spot pubblicitario, questa non è roba mia, quindi questo libro di Don Ernesto Zucchini, lo faccio vedere, che è La cattedrale di Maria Valtorta, una guida all'opera della grande mistica, anche questo è un testo molto significativo, sono edito da Fede Cultura, reperibile anche su Amazon, anche in versione digitale, infatti probabilmente io comprerò anche le book, anzi ho comprato anche le book di questo qui, sono 400 e 57 pagine, questo praticamente fa vedere tutta l'opera di Maria Valtorta e tutto quello che ha fatto con vari riferimenti, queste sono opere scientifiche, che non sono, sapete, io sono un po', le ho fatte le opere scientifiche, cioè se mi ci imbarcassi, una tesi dottorare l'ho scritta, una tesi dottorare l'ho scritta, ma io sento nel cuore, non voglio fare il sentimentalone, però più che nel cuore sento come vocazione l'importanza poi di trasmettere le cose alle persone, cioè il lavoro catechetico, omiletico, quindi quello che serve a nutrire le anime, sperando di riuscirci, di portare alla conversione, alla santificazione, ok? Però siccome il mondo di Maria Valtorta per esempio è variamente attaccato su vari fronti, è uno da anche capire, se vuole cominciare a trovare argomentazioni c'è questo, poi c'è quest'altro professore che è liberato De Caro, questo è un fisico e ricercatore del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ecco il testo, si chiama L'ultima ora, anche questo lo devo cominciare a leggere, L'apostasia, l'anticristo e la fine del mondo negli scritti di Maria Valtorta, questo non è scritto però, capite, da un mezzo pazzoide, come dire, visionario, che va presso tutte le relazioni private, complottista, che comincia a parlare dell'anticristo, tutte queste cose qui, argomenti che chiaramente mandano, te fai un video del genere, te fai 20.000 visualizzazioni con un giorno, no? Questo è un lavoro scientifico, non è un lavoro, cioè non è che qui si trovano, certo ci sono anche delle citazioni di passaggi, ma guardate che ci sono anche dei, gli ho dato una sfogliata, è un lavoro scientifico, quindi non è un lavoro approssimativo, ecco un altro testo molto importante, pensate che hanno fatto degli studi scientifici sul mondo di Maria Valtorta, sulle cose che descrive, cioè prima di pubblicare quel testo, mi riservo adesso parlerò con la persona che mi era data, caso mai mi devo ricordare, lo sia montato e lo faccio vedere, l'ho data a questa persona, che è una persona scientificamente competente, perché io, confesso, su alcune sezioni di quel testo non sono in grado di capirci, perché ci sono le funzioni matematiche, io non ci capisco niente di questa roba qui, perché qui si sono andato, però, attenzione, l'hanno pubblicato perché a livello di fonti scientifiche quel lavoro è stato considerato scienza di primo livello, capite? Cioè, se vedete i libri, i video di Zichichi, quando Zichichi parla di quelli che ancora vanno cianciando in giro sulla teoria dell'evoluzione, cioè lì asfalta dicendo questo non è neanche scienza di quarto livello, ok? Bisogna sapere che esistono queste cose, perché i detrattori di Maria Valtorta, ah questo è scritto il romanzo, le cose, pure scritto malino, un po' smielato, un po' quindi e poi tante critiche anche da parte dei miei tecfesiali, quindi questa è monnezza, tu devi stare calmo, cioè questi hanno fatto un grandissimo lavoro, cioè perché per quanto mi riguarda la forza e la bellezza e la grandezza di Maria Valtorta è quello che ti trasmette da un punto di vista spirituale, cioè proprio l'effetto per quanto ha riguardato la mia personale vita, il nutrimento che questa cosa mi ha dato e anche dopo aver fatto gli studi teologici, proprio l'ortodossia dottrinale al 100%, riscontrato per quanto mi riguarda negli scritti è più che sufficiente, però dato che ci sono dei trattori agguerriti, sapete che poi a un certo punto ci stanno anche i famosi argomenti fondamentali, no? Che contra fatta, razio non valet, aspettate che adesso faccio un attimo una ricerca al volo e vi do almeno il titolo così poi non... oh eccolo qui, sta su, anche questo sta su Amazon, basta cliccare, allora si chiama, c'è sempre liberato De Caro tra gli autori e l'altro è un altro scienziato che è Emilio Matricciani, si chiama Indagini scientifiche sugli scritti di Maria Valtorta, ragione, scienza, supporto della fede, solo che questo veramente è un testo per specialisti, cioè io sinceramente molti pensano che sono molto colto e istruito, insomma cioè so qualcosa a livello, cioè il mio forte sono il mio forte, le cosiddette scienze umanistiche io sono stato sempre allergico, forse è stata una cosa più per partito preso che per altro, no? A me matematica, fisica, chimica, biologia, tutte cose che mi piacerebbe tanto sapere poi tra l'altro, cioè io quando sento le persone che capiscono qualcosa vado in giubilo perché anche lì quelle sono tutte quante cose che ti fanno conoscere qualcosa del libro e della testa dell'onnipotente, perché tenera amata, docet, cioè chi è che ha composte le leggi della chimica, perché noi quando mangiamo cose buone, se sentiamo delle cose buone, perché quello è un problema delle reazioni chimiche, cioè io lo capisco intellettualmente, ma è chiaro che uno scienziato, uno che conosce la chimica e ti dice guarda che tu senti questo sapore perché c'è questo composto di atomi di questa sostanza, questa sostanza che ti genera questa reazione, io non sarei in grado di fare una cosa, quindi lo capisco a livello teorico, ma non sono in grado di poi capirlo nel concreto, nel particolare, questo testo posso anche prendere insomma, posso farlo vedere almeno da dove l'ho trovato, vediamo se si vede che non mi fa l'effetto, eccolo, vediamo se si mette a fuoco, non tanto, la prossima volta facciamo di far vedere il cartaceo, appunto è un testo scientifico e con questo testo è uno, ok, scienza di primo livello, quindi questo chiaramente sapete che Gesù ha detto che verrà il giorno in cui queste cose saranno approvate dalla Chiesa e lui voleva che fossero approvate da subito e sapete oggi vabbè è andata così, facciamo questo piccolo preambolo, se vedete che deve andare così, oggi è la giornata degli imprevisti, allora perché sappiate, poi ci andiamo tanto il brano di questa sera non mi sembra che ero lunghissimo, ci dovremmo fare, cioè Gesù voleva questa cosa, questa cosa non è avvenuta perché è stata mal gestita, anche da chi era incaricato comprese le persone, i religiosi che dovevano stare dietro a questa cosa, che sono stati troppo precipitosi, hanno cominciato a mettere in giro queste cose prima del tempo, Pio XII aveva suggerito, deve essere pubblicata così come sta, ma con molta prudenza, quindi hanno fatto le cose, è successo, il fin di mondo è successo, perché poi Pio XII ne era stato un estimatore e infatti i guai sono cominciati subito dopo la morte di Pio XII, perché questa cosa andava a circolare senza gli dovuti in primatur, è andata in mani di chi si è fatto ovviamente, il Papa Giovanni XXIII era stato appena neoletto, il Santo Uffizio ha caricato e così, e Maria Valtort era ancora via, perché Maria Valtort era morta nel 61, capito? L'opera fu messa all'indice nel 59, ma a morire di crepa cuore, Gesù si è, come dire, non è che si è arrabbiato, ma Gesù si è indignato di questa cosa e, attenzione, io questo lo dico sempre quando siamo andati anche nei pellegrinaggi in giro, sapete cosa è successo? Perché l'opera di Maria Valtorta termina con il commento sulla lettera ai Romani, non tutti le sanno queste cose qui, cioè c'è l'opera sul Vangelo, ci sono i quaderni, c'è l'autobiografia, c'è il libro di Azzaria, proprio di cose, il libro di Azzaria è bellissimo per esempio, no? Un commento delle letture domenicali della messa in vetus sordo, la prima domenica dopo Pentecosti, la seconda domenica dopo Pentecosti, il Corpus Paolino, bellissimo eh? Oh, ma Gesù aveva intenzione di commentare tramite i dettati tutto il Nuovo Testamento, perché la lettera ai Romani, dopo gli Atti degli Apostoli, è la prima lettera del Nuovo Testamento, è la prima del Corpus Paolino, che ha 14 lettere. Sono 14, 14 lettere di San Paolo, ci sono la prima, la seconda e la terza lettera di San Giovanni, la prima e la seconda lettera di Pietro, la lettera di Giacomo, la lettera di Giuda e tutto il libro dell'Apocalisse. Gesù aveva intenzione di dettare il suo commento al libro dell'Apocalisse, che sono 2000 anni che si stanno scervellando su questo libro dell'Apocalisse. Sapete perché queste cose non ci sono state? Perché Gesù ha detto, avete fatto così e io adesso ritiro il mio dono. La storia finisce qui. Da ora innanzi io mi darò in privato soltanto a questa povera anima che sta morendo di dolore e le liberazioni pubbliche sono finite. Capito? Questo per far capire anche ai, tra virgolette, fatalisti che cosa va a succedere. Noi dobbiamo stare attenti a come gestiamo le cose, molto attenti. Giuda, nella prova lampante, Giuda ha fatto la fine che ha fatto perché se l'è scritta con le mani sue. Vi invito sempre ad essere molto cauti, per favore, e lo devo fare perché continua a risentire in continuazione scempiaggini. Ah sì, va bene, però Dio l'ha permesso. Allora, domanda, perché dopo uno deve per forza farsi qualche domanda. Un'anima dannata, uno che va all'inferno. Vediamo. Dio l'ha permesso? Sì o no? Ha permesso o no? Permesso perché quando uno dice Dio l'ha permesso significa, sta dicendo che, ma è chiaro che Dio tutto permette perché Dio è onnipotente, è onnipotente. Chiaro? Quindi se volesse agire in qualunque modo non c'è niente che lo può affermare. Chiaro? Ma Dio vuole che un'anima si danni, ma stiamo scherzando? Se uno comincia a entrare in questo approccio fatalistico della divina volontà permissiva, va a fare la fine dei protestanti e prima di loro di Guglielmo Dockham e poi di Carvino. Guglielmo Dockham aveva detto questa cosa qui. Aveva fatto un tale culto della volontà di Dio che diceva che la volontà di Dio è onnipotente e Dio può fare quello che vuole in maniera completa e non deve rispondere a nessuno. Attenzione, cosa che in parte è vera. Però, attenzione, anche se noi non la riusciamo a capire e dobbiamo sempre fare un passo indietro, ma la volontà di Dio non è la volontà di uno che fa le cose sragionate. Perché poi, quando le persone intelligenti vanno ad aderire a questa cosa, il protestantesimo viene da Guglielmo Dockham, ci ha fatto dei cicli di catechesi. Allora tu porta alle estreme conseguenze questo discorso. Se uno va all'inferno, Dio poteva salvarlo perché è onnipotente e non l'ha impedito, quindi che significa? Significa che ce l'ha predestinato all'inferno. Ed ecco, Calvino, la doppia predestinazione. Dio predestina alcuni al paradiso e altri all'inferno. Motivazione perché? Ah, perché non si sa. Dio può fare quello che vuole. Guglielmo Dockham? Oh! A qui si diventano tutti quanti atei, eh? Non diamo retta a queste scemenze, mi raccomando. Questa storia, perché Gesù vuole che si parli di Giuda? Perché vuole che si parli di Giuda? Per evitare che ci siano altri Giuda. E ci stanno. E non è volontà di Dio. Questo se ne doveva andare fin dal primo giorno. Questo libro qui, guardate, è grosso. 300 pagine, 7 piotte. Se quello avesse dato letta al Signore, non venire Giuda. Vatta a fare una passeggiata. Vatta a fare un bagno al mare. Lascia perdere. Non è per te. Ragazzi, stiamo a parlare dell'altro coso. Sta cosa non c'era, eh? Tu dici, eh, ma Gesù doveva soffrire e doveva morire. Ma che c'è bisogno di Giuda? Ci sono stati altri 500 miliardi di modi perché Gesù morisse in croce. O quei cretini, perché bisogna dirle le parole, eh? Quei cretini, perché hanno detto pure, guardate, la bestialità umana, proprio la bestialità nel senso che le bestie non hanno il cervello. A modo dobbiamo fare un monumento a Giuda. Negli anni passati. Perché se non ci fosse stato Giuda, che tradiva Gesù, non ci sarebbe stata la redenzione. E con questo? Dico, 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 stiamo scherzando. E qui tutte quante le cretinate su Giuda che bisogna sperare che si sia salvato. Capito? Tutte cose che non prendono in sé la considerazione. Guardate che qui ci andiamo a rischiare la dannazione a tutti quanti, eh? A che io? Se non prendiamo sul serio il nostro essere uomini dotati di intelletto e volontà, quindi che devono farlo funzionare il cervello e devono poi conseguentemente fare delle scelte ponderate, sensate, di scienza e coscienza, e non andare a dire ma Dio l'ha permesso. Quando ripensiamo alla nostra esistenza, è certo che poi Dio nella sua onnipotenza, questo è un dato di fatto oggettivo, sa trarre anche dal male il bene. Tutto concorre al bene di coloro che amano Dio. Certo che è vero, però questo noi dobbiamo farlo sempre come applicazione ex post e non in chiave dei responsabilizzanti. Ah sì, vabbè non mi occupa l'antestato, vabbè andiamo a casaccio tanto, Dio mi aiuterà perché comunque ci pensa lui, se Dio lo permette. Con calma per favore. Io ho già detto, ho dovuto per forza di cose, ripeto, lo ridico anche se questo è fuori contesto, questo è, prendere un pochino di distanze da un certo mondo che mi ha visto impegnato per anni, quando ho visto applicazioni alla Guglielmo Dockham, a GoGo, e mi dispiace, però dico, cioè, siccome io non posso fare finta di essere, cioè, sul canale YouTube ci sono 60.000 iscritti, io non pensavo mai di trovarmi dinanzi a una cosa di questo genere, io ho cominciato a mettere l'uomo e ho cominciato a mettere l'MPD, io ho cominciato a mettere il povero parroco del Borgo San Michele, c'è stata un tizio che mi ha detto, ma mettile sul sito, fai l'angolo della parrocchia, e poi diceva, ma se ci metti quattro foto le metti su YouTube, e dico, probabilmente qualcuno se le vedrà, pensavo tra me e me. E guardate che è cominciato così, eh? E chi se lo immaginava una roba del genere? Però non posso, io non posso fare l'idiota adesso, pensare che sono NN, sono sempre NN, sono il re dei cretini degli Ciociamogga, diceva il buon Dondolindo Ruotolo, che quella frase, per favore, io faccio una preghiera, sono io, quando incontrerò Dondolindo, se lo incontrerò, gli dico, bravo, quella frase l'hai fatta per me, chiaro? Però non posso, i numeri li vedo quando avrò il mio canale YouTube, dico, e se io ci metto la mia faccia, se purtroppo il mainstream di questa cosa sta dando questa vulgata, e io ci metto la mia faccia, che succede? Ah, ma anche Don Leonardo è d'accordo con questa roba, e sono successe delle cose gravi, l'ho detto in altre serie, per cui a me mi viene lo scrupolo di coscienza, e mi dispiace, ma non ho quasi scelta, devo farlo per forza, non so se mi ci hanno spiegato, vabbè, adesso stiamo scendo fuori, adesso andiamo finalmente, quanto ci manca, ce l'abbiamo, tanto con una 25 minuti di massimo mezz'ora il bravo di questa sera riusciamo a gestirlo, allora, nessuno deve essere rifiutato se turba e fa soffrire, non deve essere rifiutato se turba e fa soffrire, qui vedete che una volta che c'è Giuda diventa occasione di santificazione per tutti, Gesù entra con i quattro rimasti e dopo il bacio con Lazzaro presenta Giovanni, Filippo e Bartolomeo e poi li congeda rimanendo solo con Lazzaro, vanno verso casa, questa volta sotto il bel porticato è una donna, è Marta, ho una sorella maestro, qui compare Marta, chissà, seguendo me le dimagre, ormai conosciamo benissimo a Marta, no? Eccola, è Marta, buona e pia, il conforto e l'onore della famiglia e la gioia del povero Lazzaro, prima era la prima ed unica gioia mia, ora la seconda perché la prima sei tu, vai, vai, è troppo bello Lazzaro, no? Marta si brosta fino a terra e bacia l'urlo della veste di Gesù, pace alla sorella buona e alla donna casta, vedete che bella volta che vedrà Gesù, alzati, Marta si alza e entra in casa con Gesù e Lazzaro, poi chiede di assentarsi per le cure di casa, è la mia pace, mormora Lazzaro e guarda Gesù, uno sguardo scrutatore, ma Gesù mostra di non vederlo, qui già Lazzaro stava sognando ovviamente già dal primo incontro che Gesù facesse qualcosa per la sorella disgraziata, per l'altra sorella, attenzione che il secondo istituto di Maria Valtorta, questo per chi non sta seguendo il ciclo parallelo di Catechesi, Lazzaro, Marta e Maria di Magdala erano tre fratelli, non con tutte le cose che dicono Gesù, quindi la donna peccatrice che ha pianto ai piedi di Gesù a casa di Simone il Fariseo è Maria di Magdala, che è la stessa che ha fatto l'unzione di Betania cinque giorni prima della passione, la stessa, Marta e Maria, sorelle di Lazzaro, Giovanni XI, la risurrezione di Lazzaro sono le stesse persone, la tradizione della Chiesa, San Girolamo, i padri, non c'erano nessun dubbio su queste cose qui, come sempre gli intelligentoni contemporanei hanno cominciato a dire no ma la donna peccatrice, un'altra persona, tutte le altre chiacchiere della cosiddetta esergetica scientifica e hanno tortato tutto quanto, per cui Maria di Lazzaro di Magdala si sa più macco bene chi è, tanto per dirne uno, no? Quando se uno anche legge i Vangeli, cioè Maria Valtorta scende nei particolari, ma se uno dà un'occhiata ai Vangeli ci arriva anche leggendo i Vangeli. Luca dice una donna peccatrice, ma da che cose riconosce? dal gesto, no? Se piange, asciuga i capelli e spacca poi l'olio profumato, fa la stessa cosa a Betania, già ti ha dato un indizio, no? E poi c'è sempre il discorso della tradizione, la tradizione, perché alcune tradizioni sono state tramandate per via orale, non hanno scritto tutti gli apostoli, cioè in mezzo agli apostoli, che questi erano tre fratelli, ma c'è andato dei pazzi scontato, capito? Non c'è manco bisogno che tu lo scrivi, perché sono stati i protagonisti nei tre anni della vita pubblica di Gesù, no? Vabbè. L'atteggiamento di Gesù fa deviare la conversazione. Lazzaro apprende che il pastore Giona è morto di stenti, un episodio terribile, drammatico, dopo essere stato inutilmente affrancato dal servizio di Doras, noto per la sua possibilità. Questo Doras era un fariseo che dirgli, scusate, un animale, ma proprio trattava i suoi servi, i suoi schiavi, peggio che le bestie da sola. Frustate, botte da orbi, lavori proprio disumani, mangiare quasi zero, riposo quasi zero, proprio una bestia. E poi ovviamente si ottezzava il grande santo, Ariseo, il grande Doras. Gesù si è passato da un quarto d'ora, eh? L'ha fulminato a questo Doras, eh? Ti lascio al giudizio di Dio e poi è stato fulminato sul colpo, eh? Dopo aver cercato in tutti i modi, con una pazienza che ovviamente Giobbe in confronto al nostro Signore è nessuno, no? Ma guarda proprio, cioè con una pazienza, con una dolcezza per farlo ravvedere a questa bestia vivente, che solo nostro Signore voleva avercela. È uno dei tanti episodi molto edificanti del loco. Sono tutti così, però. E quindi Gesù dice, voglio dire, Lazzaro comincia a dire, diffida Gesù di lui, è capace di tutto, quindi lo sta ammonendo circa chi è Doras. Signore, che ti ha detto Doras? Non ti ha detto di sfuggirmi? Non ti ha messo in luce oprobriose il povero Lazzaro? Risposta, credo che tu mi conosca a sufficienza per capire che da me giudico e con giustizia e che quando amo, amo senza pesare se questo amore può farmi bene o male secondo le luci del mondo. Sempre nostro Signore sovrano, ecco, dominatore, bellissimo sentire queste parole, no? Ma quell'uomo è feroce e atroce nel ferire e nel nuocere. Mi ha tormentato anche giorni fa, mi è venuto e mi ha detto, occhio ho già tanto tormento, perché potete mi levare anche te. Io sono il conforto dei tormentati e il compagno degli abbandonati, sono venuto a te anche per questo corsivo nel testo. Lazzaro ribatte, ah, tu allora sai? Oh, mia vergogna! no, dice Gesù, perché è tua? So, e che perciò? Avrò una tema per te che soffri? Io sono misericordia, pace, perdono, amore per tutti e che sarò per gli innocenti? Tu non hai il peccato per cui soffri, dovrei inferire su te se ho pietà anche di lei? Capito di cosa sta parlando, no? Questo gli ha detto, ah, Gesù, eh, quando saprà chi è tua sorella? Capito? Sta parlando di Maria di Magdano, no? E quello si vergognava, dai, c'è una sorella così, diciamo che lo sa il maestro, chi lo sa che, cioè, che va a casa del fratello di una, sapete la mentalità del tempo, no? Che peccato c'è uno se c'è un fratello, se c'è una sorella che ha la vergogna, cioè, ognuno risponde dei peccati suoi, no? Dice, dovrei inferire su te se ho pietà anche di lei, dice Gesù. Dice, l'hai vista? L'ho vista, dice Gesù, non piangere. Ma Lazzaro, col cavo abbandonato, sulle braccia concerte, su un tavolo, piange con singhiozzi penosi. Marta si affaccia e guarda, Gesù le faccevano di stare zitta e Marta se ne va con dei lacrimoni che scendono senza rumore. Lazzaro si calma poco a poco e si umilia per la sua debolezza. Gesù lo conforta e, perché l'amico desidera ritirarsi un momento, esce nel giardino e passeggia fra le aiuole, scusate, dove resiste ancora qualche rosa pulpura. Marta lo raggiunge dopo poco. Maestro, Lazzaro ha parlato? Sì, Marta. Lazzaro non sa darsi pace da quando sa che tu sai e che l'hai vista. Come lo sa? Ecco qua, eh? Prima quell'uomo che era con te e che si dice tuo discepolo. Quello giovane, alto, bruno e senza barba. Ecco come era fatto Giuda. Alto, bruno e senza barba. Questi gli attori dovrebbero un po' tenerlo presente, eh? Anche quel bellissimo film Io sono Giuda, Giuda non passa barba, ma la barba ce l'aveva Giuda. Perché non ce l'aveva? Perché salteggiava alla romana, sapete che i romani tutti senza barba, eh? Una volta i preti romani fatti rigorosamente senza barba. I religiosi no, ma guai a te, perché il romano sta senza barba. Il romano, pelle liscia. La barba è roba da barbari, no? Da ebrei, quindi Giuda era tutto così, no? Quindi prima quello che si dice tuo discepolo e poi Doras. Ci ha frustati col suo disprezzo, questo. L'altro ha detto solo che l'avete vista sul lago con i suoi amanti. Quindi Giuda ha fatto la spia di quell'episodio, il famoso primo episodio dell'incontro, la prima volta che si vedono, sul lago, questa è la scena, qui consiglio per gli acquisti di cose mie, l'altro ciclo di catechesi, è una delle prime puntate, quella su Maria di Magdala, no? Ma non piangete per questo. Credete che io ignorassi la vostra verità? Ma la sapevo da quando ero nel padre? Dice Gesù. Non ti accasciare Marta, solleva cuore e fronte. Vedete che con gli amici ogni tanto Gesù, scorsi ogni tanto dobbiamo pensarsi anche noi, eh? Cioè, lui le sa le cose nostre. Perché ce l'abbiamo... quando noi veniamo a conoscenza di qualcosa, di noi stessi, anche un po' dobbiamo ringraziare Dio perché? Perché ci fa conoscere a noi in modo tale che possiamo rettificare, convertirci, cambiare. Dice, ma mi vergogno davanti a lui. Ma che... sì, va bene. Ma tanto lo sapeva già e sa molte altre cose, che fortuna che di noi non le sappiamo tutti, se no andremo a fare... andremo a svaliggiare le armerie con le calibro 38, eh? Tutte svaliggiare. Se le sapessimo tutte. prega per lei, maestro. Io prego, ma non so perdonare del tutto e forse l'Eterno respinge l'orazione. E qui Gesù interviene. Bene, hai detto. Perdonare bisogna per essere perdonati e ascoltati. Io prego già per lei. Ma dammi il tuo perdono e quello di Lazzaro. Tu, sorella buona, puoi parlare e ottenere ancora più di me. La sua ferita è troppo aperta e bruciante perché anche la mia mamma ha sfiorato. Ma tu puoi farlo. Datemi il vostro perdono pieno, santo, ed io farò. Perdona a quella disgraziata, tutto quello che ha fatto. Perdonare bisogna sempre. Se no Dio non agisce, non opera. Lo sta dicendo qui. Ok, Gesù è di nuovo da Lazzaro. Questo adesso arriva il punto che ci interessa, ma due paginette sono, non abbiamo finito. Da ciò che odo, comprendo che i tabernacoli sono già venuti e che Gesù è tornato a Betania per l'insistenza dell'amico che non vorrebbe mai essere separato da Gesù. Comprendo anche che Gesù è da Lazzaro solo con Simone e con Giovanni, mentre gli altri sono sparsi nella zona. E comprendo infine che vi fu come un ritrovo di amici ancora fedeli a Lazzaro, da lui convitati per far loro conoscere Gesù. Tutto questo comprendo perché Lazzaro giusta ancora meglio le caratteristiche morali di ognuno. Parla così di Giuseppe da Arimatea, definendolo uomo giusto e vero israelita. Dice, non osa dirlo perché teme il sinedrio di cui fa parte e che già ti odia, ma spera in te il predetto dai profeti. Di suo mi ha chiesto di venire per conoscerti e giudicarti di suo, non parendogli giusto quello che di te dicevano i tuoi nemici. Fin dalla Galilea sono venuti dei farisei ad accusarti di peccato. Ma Giuseppe ha giudicato così, chi opera miracolo ha Dio con sé. Chi ha Dio non può essere peccato, ma anzi non può essere altro che uno che Dio ama. Esempio di discernimento fatto col cervello. Guardate che tanti contemporanei di Gesù non hanno fatto il discernimento. Gesù ha fatto dei miracoli in senso stretto. L'ultimo, quello di Lazzaro, era inequivocabile. Dinanzi ad una roba del genere, guai a tutti quelli che hanno assistito e che hanno visto e che sono rimasti quelli che erano rimasti. Perché quando nostro Signore ci dà dei segni oggettivi, incontrovertibili, vi ricordate come diceva Bragardi? Poi so cavolo nostro, eh? Vi ricordate, no? So cavolo mio, so cavolo tuo. Che te frega, so cavolo tuo. Poi, so veramente guai, eh? Perché tu ce l'hai avuto gli elementi per capire. Giuseppe di Arimatea, collocato il vostro Gesù dalla croce, che ha sfidato tutti quanti. Le chiacchiere non si devono ascoltare. Quando vi parlano male di qualche prete, io su questo vorrei scrivereci l'operia, aspetta. Nella lettera a Timotio c'è scritto, San Paolo dice non accettare nessuna cosa contro i preti se non sono attestazioni multiple. Verifica e se sono vere poi riprendilo davanti a tutti. Facciamoci un'idea nostra delle cose. Vai a vedere, controlla, guarda, osserva e ti ha la prova. E poi ti fa un'idea. Quindi, fa miracolo a Dio con sé. Se a Dio con sé non può essere il peccato, ma anzi sicuramente è uno che Dio ama. Quindi ti vado a vedere chi è. Perché fosse lui l'atteso, e infatti lo era. Cioè, io ogni tanto, per favore, ragazzi, ci rendiamo conto che Gesù Cristo, cioè il prorogo del Vangelo di Giovanni, che si è benedetta alla Messa e al Rito Antico, dove si legge sempre, la frase venne fra la sua gente, ma i suoi non l'hanno accolto. è una frase bellissima, è drammatica. Perché lui è venuto per essere accolto, ma viene sempre come fa le cose, il nostro Signore viene e ti dà dei segnali, interpella. Tu quelli li devi raccogliere, mio amico. E ti vorrebbe ad Arimatea, continuo a leggere, nella sua casa, e mi hai detto di dirtelo, e Dio te ne prego, ascolta il mio e il suo pregare. Gesù risponde, sono venuto per i poveri e i sofferenti di animo e corpo, più che per i potenti che vedono in me solo un oggetto di interesse. Premesso. Ma andrò da Giuseppe. Non è partito preso in me contro i potenti. Un mio discepolo, quello che per curiosità e per importanza, che da se stesso si arroga, da te è venuto senza mio ordine, ma è giovane e va compatito. Vedete come sta asfaltando e poi difendendo Giuda. Perché glielo dice, eh? Per curiosità e per importanza che si attribuisce da sé. Si arroga. È venuto senza mio ordine. Però è giovane e va compatito. Può testimoniare il mio rispetto alle caste potenti che si autoproclamano le tutrici della legge. Anche lì quando uno vede come Gesù trattava i parisei, io non ricordo la prima volta che lo leggevo. C'è da rimanere, c'è da rimanere sterrefatti. Lui si inchinava. Salve rabbì, salve quei. Questi lo trattavano con insolenza e un'arroganza che a volte l'opera suscitava anche qualche sentimento malzano. Ma io a questo se stavo là, ma gli diamo una ragnola dei cazzotti. Te li tira fuori dalle budella proprio, questi sentimenti terribili. e lui va. Mite, paziente, inchino, rabbì. Lo cacciano. Me ne vado. Scusate che sono venuto. Le tutrici della legge, autoprogrammate. E fanno capire le sostenitrici dell'Altissimo, loro. O che l'Eterno da se solo si sostiene. Nessuno produttore ha mai avuto quel rispetto che io ebbi verso gli ufficiali del Tempio. Andare a leggere l'opera e provare per credere. Lo so, e questo sanno molti e molti, ma sono i migliori danno a questo atto il nome giusto. Gli altri lo chiamano ipocrisia. Ah, lo fa finge. Lo fa per arruffianarseli. E sentite che cosa risponde Gesù. Ognuno dà ciò che in sé ha Lazzaro. Questo vale per quelli che stanno sempre a vomitare veleno, ovunque si girano. Non facciamo mai queste cose. Non scadiamo così in basso. Il vomitatore di veleno, faccia pure. Ricordi però che c'è il giudizio particolare. C'è anche il giudizio universale. Se non se lo fosse dimenticato. Magari tutti quanti quelli che gli ha vomitato veleno e magari davanti c'è un'altra faccia. Bella, ammaliante. C'è il pericolo che qualcosa avranno. Perché come starai poi? Vogliamo ricordare il di essire quitzum miser tumtitturus quen padrono rogaturus? Che cosa dovevo dire in quel momento? Che cosa dovevo lamentare? Ognuno dà ciò che in sé ha Lazzaro. È vero, ma vai da Giuseppe. Ti vorrebbe per il prossimo sabato. E vi andrò, dice Gesù. Puoi farglielo sapere. Anche Nicodemo è buono. Anzi, mi ha detto posso dirti una critica su uno dei tuoi discepoli? Dilla. Se è giusto, giusto dirà. Se è ingiusto, criticherà una conversione perché lo spirito dà luce allo spirito dell'uomo se uomo retto e lo spirito dell'uomo guidato dallo spirito di Dio ha sapienza sovrumana e legge la verità dei cuori. Mi ha detto, non critico la presenza degli ignoranti né dei pubblicani tra i discepoli del Cristo, ma non giudico degno di essere fra i suoi colui che non so se sia con lui o contro di lui, pari a camaleonte che prende colore e aspetto da ciò che avvicina. Nicodemo era subito squadrato. Adesso Gesù chiaramente ha fatto sempre così. Sentiamo che dice. Costruire l'iscariota. Lo so. Ma credete tutti, giovinezza è vino che fermenta e poi depura. Nel fermentare gonfia e spuma e trabocca per ogni parte per esuberanza di vigore. Vento di primavera piega in tutti i sensi e pare folle scapigliatore di fronde, ma è quello che dobbiamo ringraziare per fecondare di fiori. Giuda è vino e vento. Ma malvagio non è. Il suo modo scompiglia e turba, urta anche, fa soffrire. Ma non è tutto malvagio. È un puletro di sangue ardente. Tu lo dici, dice Lazzaro. Io non sono competente a giudicarlo, ma di lui mi è rimasto l'amaro dell'avermi detto che tu l'avevi vista. Gesù ribatte, ma quell'amaro si tempera di miele, ora per la mia promessa. Ma io ricordo quel momento, la sofferenza non si dimentica anche se è cessata. Qui se posso permettermi una considerazione, non voglio chiaramente, però io sono un po' d'accordo con Lazzaro, eh. Però adesso Gesù lo dico. Lazzaro, Lazzaro, ti turbidi troppe cose, e così meschine, lascia scorrere i giorni, bolle di aria che sfumano e non tornano con i loro cuori allegri o tristi. E guarda al cielo, quello non di legua, è per i giusti. Sì, maestro e amico, non voglio giudicare l'essere giuda con te, né il tuo tenerlo con te. Precherò che non ti nuoccia. Gesù sorride e tutto a fine. Allora, a fine anche questa catechesi ho promesso, l'abbiamo fatto abbastanza presto nell'arrivare alla alla fine. Qual è la morale, diciamo così, di oggi? È questa. Giuda è stato sgamato sia da Nicodemo che da Lazzaro. Ecco, però Gesù, dicendo queste cose, ovviamente Gesù non potrebbe mai, mai, come dire, giustificare un pervertito, un perverso, un... cioè, quello che dobbiamo capire è che Giuda non è nato Giuda. Cioè, non ci stanno gli spacciati a priori, no? Giuda stava messo male, è chiaro che Gesù vedendo il futuro, ma Gesù non sta mentendo. Cioè, era uno spirito inquieto, era uno spirito ancora preso da quelle follie, quelle borie giovanili, oppure quegli ardori giovanili che a me Cuccini non piace tanto, però Cuccini cantava a vent'anni si è stupidi davvero. Io ci metto 50 firme. È così, a vent'anni si è proprio stupidi, ok? E la frase importante è che non è del tutto malvagio, quindi lo dice, punto primo perché è così, e punto secondo per insegnare, e questo vale per tutti, che noi non possiamo... cioè, mentre Gesù lo sa, Gesù è Dio, quindi lo sa, che lui sarebbe rimasto così, anzi sarebbe peggiorato, noi però questo non lo sappiamo delle persone. È vero che delle volte ci stanno delle persone che sono veramente... se posso non lo sopportare. E sembrano spacciate, però io ho un'esperienza totale, ci stanno le grandi conversioni. Noi questo non lo possiamo sapere. L'essere umano dobbiamo sempre pensare che sia recuperabile, ordinariamente. Dio lo sa che esistono degli irrecuperabili, non può non saperlo, perché conosce il futuro, ma noi no. Quindi noi dobbiamo attenerci a ciò che è. Ed evitare, come dire, certo però che questi... sapete come diceva Andreotti, con un po' di ironia, giudicare si fa peccato, ma raramente si sbaglia. Lui diceva così. E qui Nicodemo gli ha fatto la foto. Dice la presenza degli ignoranti e dei discepoli e dei repubblicani. Il suo problema. Ma quello a me non mi piace. Perché? Perché è un camaleonte che prende colore e aspetto a seconda di chi gli sta vicino. Verissimo. Attenzione poi ai camaleonti. Esistono ancora i camaleonti. Cioè quelli che a seconda di chi sono vicino, si adattano. In un istante cambiano faccia e pensiero. A volte sono proprio insgamabili. A meno che non arrivi qualche input o qualche circostanza che ti mette qualche pucce nell'orecchio. Le persone peggiori che esistono. Perché sono le persone false per antonomasia. Giuda era un falso per antonomasia. E quando c'è questa attitudine nel cuore, che Gesù conosceva, ma lui cerca di buttare acqua sul fuoco per evitare che si facciano giudizi temerari. Perché noi esseri umani non possiamo farle queste cose qui. Non ci competono. Non siamo Dio. Non possiamo avere la certezza incontrovertibile del futuro. Quindi peccheremmo. E Gesù non vuole che pecchiamo. Però di fatto dagli spiriti camaleonti, occhio bisogna stare attenti perché quelli possono fare dei danni, non indifferenti. E non ci si deve fidare per nessun motivo perché sono falsi. Cioè, nella vita vale per tutti questo qui, per noi preti di più. Ma vale per tutti. Sapete una delle cose più importanti da imparare a fare? Capire di chi ci si può fidare. Ovviamente Gesù non si fidava di Giuda, ma non lo andava a dire in giro. Non lo caccia perché Gesù non non respinge nessuno. E lui ha sempre cercato per sé e farlo fare agli altri di salvarlo. Perché attenzione, vedete come di opera, eh? La prescienza di Dio circa il fatto che la la persona, Dio conosce il futuro, butterà via tutte le grazie. Non significa niente. Non significa nulla. Perché Dio tratta quella persona come se non lo sapesse. Cioè, noi per capire dobbiamo farci questa rappresentazione. Come se non lo sapesse. Lo sa, ma è come se non lo sapesse. Perché? Perché quando arriverà il giudizio particolare e universale, questo lo vedremo alla fine. A Giuda gli eredirà queste cose Gesù. Perché a un certo punto Giuda, verso la fine, lo comincia a colpare. Come fanno sempre tutti. Tu! Non mi devi far venire con te. Tu! Non mi devi dare la cassa. Perché visto che io rubo, se è colpa tua. No, 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 fratello. Non è così. Perché gli dicessi io non ti avessi fatto fare tutte queste cose. Tu nel giudizio. Tu! Avresti incolpato me. E avresti avuto ragione. Guardate che Dio è giusto, eh. Cioè, Dio non si farà dire niente da nessuno. Ma non perché è il capo e dice, zitto tu. Io so Dio che vuoi da me. Dio non fa così. Dio riduce al silenzio con gli argomenti. Dio non si farà dire niente da nessuno perché non ci sarà niente da dire. Lui dice degli altri, non noi di lui. Quindi attenzione, eh. Attenzione a dire Pio, a dire A sull'operato dell'Altissimo, eh. Perché qui noi non capiamo. Ma dopo sarà tutto chiaro, eh. Dio non si fa dire A da nessuno. Da nessuno. E ripeto, no? Quindi immaginate anche gli spiriti dittatori, quelli che esercitano il potere. Ah, io c'ho il potere. Quale potere? Tu il potere devi esercitarlo come Dio comanda. Devi rendere ragione del potere che eserciti. Se non agli uomini, neanche Dio rende ragione. Ma all'Altissimo, tu devi rendere conto, eh. Capito? La caratteristica è finita. A Dio comunque devi rispondere perché Dio non si fa dire tutto da nessuno. Ci chiudiamo la vostra puntata. Siamo notati Gesù e Maria. Siamo notati Gesù e Maria.